Il tavolo tecnico, al quale lungi da me di far parte, ha deciso appunto per la prima soluzione, che poi è una soluzione che ancora credo debba essere approfondita, che è la stazione su Creti. Un tratto che si presta moltissimo, peraltro era stato già annunciato questo anche da ingegneri che si occupano appunto di queste tematiche, che si prestava come zona, e quindi noi siamo ad attendere se porteranno avanti l'idea e il progetto su Creti oppure se potranno anche cambiare evidentemente idea. Quello che mi dà fastidio, francamente, è il fatto di dire o si fa da una parte o è meglio niente. Questo francamente non lo accetto. Io credo che si debba fare sulla retina. Poi se si fa a Creti posso dire di essere contento, sono il sindaco di Cortona, non posso che esserlo evidentemente, ma se verrà poi dire facciamo il suo rigutino, io appoggerò anche il rigutino. Quindi da parte mia basta che si faccia la stazione. Non ho preclusioni su nulla. Se serve il mio appoggio ci sarà per un posto o per l'altro.